Non ci siamo, non ci siamo. L'unica cosa che mi viene da dire di primo acchitto dopo aver sentito uno spezzone della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Empoli Juventus è appunto non ci siamo perché un po' va bene per l'amor di Dio, capisco tutto quanto, ma a una certa diciamo che si fa un vero e proprio affronto alla realtà ed ovviamente mi riferisco alla parte inerente alle dichiarazioni di Wojciech Cezni una volta finita la partita di giovedì contro il Siviglia perché evidentemente gli è stata posta una domanda oggi in conferenza stampa legittima, ci mancherebbe, ci può stare, alla quale Massimiliano Allegri risponde in questa maniera qui Cezni quando si giocano le partite dovremmo star zitti, già faccio fatica a parlare io, a caldo si possono dire cose inesatte, già faccio fatica io, la squadra Siviglia ha fatto tutto quello che poteva fare nel migliore dei modi, siamo stati imprecisi in attacco e concesso un gol evitabile, ma sono cose che capitano. Cezni non so le parole esatte che ha detto, magari è sbagliato l'uso dei termini non conoscendo bene l'italiano, falso, Cezni l'italiano lo conosce veramente molto bene e penso abbia già dato diverse volte dimostrazione di saperlo veramente bene l'italiano anche utilizzando i termini appropriati. Si poteva far meglio e anche peggio, abbiamo fatto due semifinali usciti bene a Siviglia e con l'Inter, ma contano i risultati, ci ricordiamo solo di quelli. Ed ecco, io partendo proprio dall'ultima frase, per l'amor di Dio, magari è vero che a caldo sicuramente si possono fare delle uscite infelici, che attenzione, non penso siano quelle di Cezni che tra poco andremo a leggere perché magari mi potrei sbagliare, però se invece ha freddo, tre giorni dopo l'uscita contro il Siviglia e due o tre settimane dopo ormai quella contro l'Inter, quindi penso decisamente a freddo, si va a dire abbiamo fatto due semifinali usciti bene a Siviglia e con l'Inter, insomma, insomma, se a caldo bisognerebbe star zitti qui anche a freddo, insomma non è che ci sia proprio della grandissima lucidità, mi sento di dire, perché usciti bene a Siviglia, sì, c'è, probabilmente io posso concordare con Allegri quando nella partita di Siviglia dice che siamo stati imprecisi in attacco e concesso un gol evitabile, questo è verissimo, poi bisognerebbe comunque guardare i 180 minuti più recuperò e bisognerebbe anche andare magari a rivedersi quella che è stata la partita dello Stadium dove senza quell'azione, anzi quel calcio d'angolo al 96esimo probabilmente si sarebbe parlato di tutt'altro, mentre invece il gol di Gatti al 96esimo, ribadisco, ci ha dato modo di crederci, di sperare, ci ha dato quella carica che fino a 20 secondi prima era definitivamente perduta? Però usciti bene contro il Siviglia e contro l'Inter? Eh però a caldo bisognerebbe star zitti, magari Cesni non conoscendo bene l'italiano, invece io da uno che mi dice che a Siviglia e con l'Inter siamo usciti bene ma contano i risultati? Cosa devo dire? Cosa devo pensare? Cosa devo credere? E a questo punto andiamo a rileggere quelle che sono state le parole di Cesni dopo la partita contro il Siviglia. Se io faccio tante parate non è un buon segnale della nostra prestazione, sono state parole inutili. Mi dà poca soddisfazione in questo momento sinceramente. Avrei preferito una partita da senza voti in pagella ma passare il turno. Che voglio dire? Io penso che ci sia ben poco di sbagliato all'interno di queste parole qui. Potrei sbagliarmi, eh, indubbiamente potrei sbagliarmi, eppure questo mi sembra. Tra sentenze e penalizzazioni che confusione. L'ordine fa bene a una società. Quest'anno è stato molto particolare. E anche qui io faccio fatica, onestamente, a dargli torto. Faccio fatica ad un gruppo squadra che magari, per carità, ha i suoi limiti, ha i suoi difetti, ha avuto un approccio iniziale di stagione, diciamo prima della penalizzazione, dove non tirava quest'aria e i risultati comunque non venivano, c'erano dei problemi, c'erano delle difficoltà, indubbiamente, e concordo pienamente. Però non si può dire, poiché non ci sia stata della confusione da gennaio in poi. Gente che magari da seconda, terza, si ritrovava decima, che per mesi scendeva in campo senza avere di fatto degli obiettivi veri e propri, perché non sapeva per cosa avrebbe poi combattuto. Poi è arrivato il collegio di Garanzia del Coni che ha colto il ricorso, ma con rinvio. E domani, a poco più di un'ora probabilmente di scendere in campo ad Empoli, sapremo quella che sarà la nuova situazione di classifica. Penso che sia abbastanza confusionaria, ad onor del vero, no? Questa situazione qui. L'ordine fa bene a una società, quest'anno è stato molto particolare. Cosa c'è da dire? Nel momento in cui non ti ritrovi un presidente, un vicepresidente, non ti ritrovi minimamente un'area sportiva, l'unico dirigente rimasto e manna che nel dubbio comunque è stato deferito per quanto riguarda la questione stipendi. Cosa bisogna dire? Dal punto di vista di uno che deve scendere in campo, di uno che comunque in un qualche modo deve portare dei risultati. Questa situazione facile e semplice dire proprio di no. Così come per lo stesso Allegri, ci mancherebbe altro perché anche lui fa parte del gruppo squadre in un qualche modo. Quello che la gestisce, o dovrebbe, insomma. Quindi per l'amor di Dio, anche dal punto di vista di Allegri è stato tutto tranne che facile. Infatti ad Allegri continuo a riconoscergli il fatto che probabilmente la squadra poteva sbandare decisamente di più, mentre invece per fortuna è sempre stata abbastanza tra le linee, diciamo, sempre con i suoi problemi, con i suoi difetti, con le sue lacune, con sempre delle partite buttate nel casino quando era evitabilissimo, come per esempio quella contro il Bologna, come per esempio quella contro il Sassuolo, assolutamente. Però come fai ad aver da ridire alle parole di Cesni? Che probabilmente, con tutto il bene, tra Cesni e Allegri, quello più lucido post partita è stato Cesni. Poi ha voglia dire, bisognerebbe sempre star sì, ti faccio fatica io sì? Fai fatica, perché se dopo la partita contro il Siviglia, quello che ti viene da dire è, beh comunque c'erano dei ragazzi con poca esperienza europea e che hanno fatto fatica magari a capire certi momenti della partita, quando tra andate e ritorno abbiamo pagato gli errori di quelli che dovevano essere decisivi o comunque abbiamo pagato gli errori di quelli che di esperienza ne hanno, perché si parla di uno che ha fatto le 500 presenze con la Juventus che è Bonucci, quelle che ne ha fatto 300, Alexandro, lo straniero con più presenze della storia della Juventus tra Italia ed Europa e nella partita di ritorno di Maria che è stata inguardabile, Chiesa che indubbiamente ha sbagliato sia a livello offensivo che a livello difensivo, però no, c'erano giocatori con poca esperienza che purini fanno fatica a capire i momenti della partita, chi? Fagioli che gli è partita una clavicola al trentesimo, il Link Junior che secondo me non è che abbia particolarmente sfigurato dato che di fatto Dala è passato a fare il terzino e che tra le altre cose non ho scelto io di metterlo in campo dal primo minuto contro il Sevilla, non è campione il sogno dove c'era il televoto che si decideva per forza di cosa un titolare ed è uscito il Link Junior, no, non l'ho scelto io, poiché Miretti per l'amor di Dio posso dare ragione ma nel momento in cui di fatto era l'unico centrocampista rimasto potevi fare anche relativamente poco, nel momento in cui si fa male Fagioli, metti Paredes e l'ultimo cambio lì in mezzo rimasto e quello di Miretti che è una certa per forza di cose è normale che debba entrare che cos'è che devi dire e anche lì Danilo è stato un signore dicendo che la colpa se la devono assumere quelli che hanno più responsabilità, non può minimamente ricadere nei giovani che devono essere e che saranno il futuro di questa squadra però no, dopo le partite bisognerebbe Star City perché per l'amor di Dio magari Scesni non conosce molto bene l'italiano quindi lungi da lui per l'amor di Dio, no, poi magari a mente fresca dici no, beh comunque contro i civili e contro l'Inter siamo usciti abbastanza bene, e beh comunque male, l'unica cosa che mi sento di dire è abbastanza male, è abbastanza male perché insomma adesso va bene tutto quanto ma mi sembra abbastanza un affronto alla realtà questa cosa ad onor del vero e ribadisco e concludo esattamente come ho iniziato, non ci siamo, non ci siamo proprio per nulla ciao 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 Grazie a tutti.